Abbiamo consegnato 7 defibrillatori a 7 associazioni sportive e dilettantistiche fanesi. Questo è un progetto che è stato sviluppato come frutto di una collaborazione tra il Comune di Fano, il Club Service Rotary Club di Fano che è attivo nella nostra città da 60 anni e la Rotary Foundation che è la cassaforte di famiglia del Rotary Club che è negli Stati Uniti. Da questa collaborazione nasce la possibilità di ampliare il progetto, di renderlo concreto e di scaricarlo a terra come abbiamo fatto oggi. Credo che sia un bel esempio di collaborazione tra mondo pubblico, mondo privato, associazionismo giovanile e associazionismo sportivo. Sono molto soddisfatto, credo che sia un gran bel risultato.